È corretto somministrare solo croccantini al gatto? È corretto somministrare solo croccantini a un gatto? Sì, non è sbagliato. In linea di massima, la somministrazione di cibo solo secco non determina problemi di salute dell'animale. Anzi, da un punto di vista generale, il secco aiuta a tenere i denti più puliti, di solito determina una funzione intestinale più regolare e, altra cosa da non sottovalutare, è che nella stagione estiva se l'animale dovesse avanzare del cibo nella ciotola, l'alimento secco tende a non irrancibire, cosa che invece succede con l'alimento umido. In linea di massima, io sono favorevole a utilizzare un'alimentazione abbastanza varia, vada a dire, formata sia da croccantini, sia da scatolette, ma anche eventualmente da cibo naturale. Poi la scelta, secondo me, se l'animale è sano, deve essere assolutamente condotta da chi è il proprietario dell'animale. Di solito poniamo dei vincoli quando l'animale ha dei problemi di salute e allora in questi casi è necessario soddisfare un alimento che sia specifico per il problema di salute in cui dobbiamo trattare. Grazie, sono Verena Iommi, esperto di delineare il BAUBOYS. Ci vediamo alla prossima domanda. Fai già parte della nostra community? Iscriviti su www.bauboys.tv Potrai fare tutte le domande che vuoi ai nostri esperti.